Ciao a tutti amici di Zoo Planet e bentornati alla nostra classifica dei 10 cavalli più grandi del mondo. Nel precedente video abbiamo parlato degli ultimi posti, oggi parleremo delle prime 5 posizioni della nostra top 10. A questo punto della classifica troviamo cavalli sicuramente fuori dal comune, ma prima di cominciare non dimenticate di mettere like al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. In quinta posizione troviamo un cavallo che per ben 8 anni è stato riconosciuto come il cavallo più grande del mondo. Si chiamava Goliath ed era uno shire nero che viveva in Gran Bretagna e che raggiungeva la straordinaria altezza di 195 cm alla testa. Un vero gigante! Iniziò a lavorare nei campi prestissimo, perché era cresciuto molto velocemente e si era ammalato. Poi fortunatamente fu scoperto da un allevatore che lo mise a riposo, facendolo diventare per ben 10 anni una vera star del Regno Unito. Dal carattere gentile e amichevole con gli uomini si è fatto amare da migliaia di appassionati nel mondo. Saliamo al quarto posto per incontrare uno shire di nome Cracker. Si tratta di un cavallo di razza shire nato nel 1989 e morto nel 2007, che ha raggiunto la considerevole altezza di 198 cm. Pur essendo di una razza classica di cavalli da tiro, è stato utilizzato solo come cavallo di compagnia ed è stato presente in molte esposizioni di animali in Gran Bretagna. Dal carattere molto socievole, si faceva cavalcare con facilità. Un bellissimo cavallo di colore nero con tre zampe su quattro bianche. Davvero imponente ed elegante. Al terzo posto ecco un cavallo da tiro belga nato in Texas nel 1998 e vissuto fino al 2016 dal nome Radar. La razza belga da tiro ha origini antiche, che partono dal Medioevo grazie all'incrocio della razza shire con quella ardennese. Radar, in particolare, raggiungeva la ragguardevole altezza di 202 cm alla testa, per un peso di oltre 1050 kg. Un cavallo dal manto marrone chiaro e dalla criniera, coda e zampe bianche. Diventato presto molto popolare negli Stati Uniti, è stato protagonista di numerosi eventi pubblici e anche televisivi. Dal carattere molto gentile e socievole, non aveva paura delle persone. Al secondo posto troviamo un altro esemplare di razza belga da tiro e il suo nome è Big Jake. È nato in Nebraska, poi acquistato e trasferitosi nel Wisconsin, sempre negli Stati Uniti. Big Jake è stato ufficialmente misurato nel 2010, riportando la misura straordinaria di 210 cm alla testa. Per molti anni è stato considerato il cavallo più alto del mondo. È un cavallo tranquillo, che ama stare al centro dell'attenzione e adora farsi grattare la pancia e il collo. Ha molti fan per aver partecipato per anni a legare statunitensi di cavalli da tiro. Per trovare il cavallo più alto di sempre, bisogna andare molto indietro nel tempo per incontrare il cavallo dai due nomi. Sì, perché questo cavallo in origine si chiamava Samson, ma in seguito, per la sua stazza, gli fu cambiato il nome in Mammuz. Questo shire inglese fu misurato nel lontano 1846, quando aveva 4 anni. Il risultato fu straordinario ed è a tutt'oggi imbattuto, con 213 cm alla testa, per un peso intorno ai 1500 kg. Dalle foto dell'epoca, era un cavallo davvero elegante ed imponente. Mai visto in seguito un cavallo così grande. In questo video abbiamo parlato della top 5 dei cavalli più grandi del mondo. Se hai perso la prima parte del video, trovi il link sotto in descrizione. In questa classifica dei 10 cavalli più grandi al mondo, qual è il cavallo che più ti piace? Scrivilo sotto nei commenti. Amici di Zoo Planet, è arrivato il momento di lasciarci, ma non dimenticate di mettere like al video, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun video. A presto da Zoo Planet!